A Torino sta succedendo di tutto, la magia ha invaso le strade della città, come Masters of Magic aveva già pronunciato. Ci sono quattro postazioni interessanti, famose in Torino, Piazza San Carlo, Via Buozzi, posti veramente meravigliosi, al cui interno si sono svolti questi spettacoli di street magic. È importante sapere che la street magic si occuperà di artisti di strada che fanno ovviamente anche magia e porteranno un pochino della nostra storia magica nelle strade di Torino. Questo era l'obiettivo. Grazie. 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 Sì, molto bello, una bella manifestazione, sia per i bambini sia per i grandi. Sì, devo dire che è divertente anche per gli adulti, anche se i bambini stanno divertendo molto. Mi è piaciuto tanto dove è quel mago del palloncino che è inserito la persona, il mago dentro il palloncino. Mi sono divertita molto perché mi piace molto la magia e mi sorprende sempre. È bellissimo, sì, mi piacciono tanto questi giochi. L'ho ne ho visto due, l'unico a Roma e questo qua adesso. Un po' più tardi vado a vedere gli altri. No, ci è piaciuto moltissimo. Noi in realtà avevamo preso il volantino già qualche giorno fa, l'abbiamo studiato e siamo venuti apposta. Siamo divertiti molto. Questo è il primo che vediamo oggi. Adesso vedremo anche gli altri. Troviamo che sia molto bella l'iniziativa. Le bimbe vi siete divertite? Valentina. Mi è piaciuto molto, il mago era molto divertente, poi quando mi ha chiamato per fare il gioco dei cellulari mi è piaciuto molto. Mi sono divertita molto. Io mi chiamo Viola e anche a me mi è piaciuto molto. Quando ha fatto anche mettere il pesce nel bicchiere mi è piaciuto molto. Bello, molto bello, divertente. Molto divertente. Siamo venuti anche ieri, siamo tornati perché ci è piaciuto tanto. Bellissima iniziativa. Assolutamente, Torino è meravigliosa. Abbiamo vissuto anche all'estero e siamo di Torino e tornare a Torino è stato bellissimo. È proprio bello. Non ci stai. Non ci stai. Non ci stai. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri cittadini e a tutti i nostri cittadini e a tutti i nostri cittadini. Grazie mille per aver guardato il video.